ora poi faccio difficoltà difficili appena manbarò il cabono penso che c'è sciva ma non è per farla subito però si può fare va alla fine con 3-2 magari sono l'118 proprio all'inizio ah è ammazzato quasi ah è rite fotte le magie e le cose la voglia la voglia è fatta apposta per cosa curativa e chissà cosa 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 sarebbe per curare una volta può combinare questa fotte le magie c'è da usare perché sono apporta non 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 Tutta sfasciammo, non so se non c'era qualcosa di strano. Prova con lì, facciangere. Vittoria, no frate, avevamo stucato, vediamo se abbiamo dato la scipa. La materia per invocare scipa è completa, prenditele, delle semere te la dava, l'ha visto? Bella, ammazzata.